Com'è la gavetta da pasticceria? È tipo quella del cuoco? Il cuoco stellato è terribile. Allora, ti spiego la gavetta che ha fatto fare Deborah. Veniva in pasticceria, le facevo fare il magazzino, le facevo pulire le teglie, lei si incavolava. Ma io, tutti i mestieri più umidi, lei si incavolava perché si sentiva la figlia del titolare, aveva la laurea in tasca e io le ho sempre detto che se uno vuole comandare deve conoscere a fondo le difficoltà o la facilità del lavoro che lo circonda. Come puoi giudicare un lavoro se non lo conosci? Tu puoi giudicarlo se lo fai e se lo giudichi sai che hai la competenza per farlo. Però metti una cosa, una gavetta di 15 anni? Cioè poteva anche durare qualche anno o meno. Un po' severo. Se sono arrivati lì lei e suo fratello magari ha anche un po' di rabbia che gli ha messo nel corpo e nell'anima. Il ragionamento è giusto, se vuoi comandare devi prima essere comandato in modo tale che sai come comportarti con le persone che lavorano con te perché è anche un lavoro di squadra immagino. Guarda, vale tanto il capo pasticcere quanto chi è al lavandino oppure che lava il pavimento. Perché noi il pavimento non lo laviamo alla sera, lo laviamo quattro volte al giorno. E se serve che c'è il pavimento un po' sporco perché è caduto qualche volta, lo lavano cinque e sei volte. E perché, e dico sempre che l'ordine del tavolo, l'ordine del laboratorio ti pulisce la testa e riesce a lavorare meglio.